Ragazzi, allora, buongiorno a tutti, io farò il video il giorno prima rispetto a quando vedrete questo video qua, quindi il giorno stesso da partita, perché appunto credo che sarò via tutto il giorno. Comunque, al di là di questo, andiamo subito al sodo, parliamo subito delle parole del signor Massimiliano Allegri, che per me solo per le parole dovrebbe essere cacciato a calci nel culo, ok, il signor Massimiliano Allegri. E' una cosa vergognosa per quello che ha detto, post partita, ancora di più, io ripeto, che quello che dice, cioè, le conferenze stampa, i post partita suoi, sono peggiori, e ci vuole veramente tanto impegno, rispetto alle prestazioni di merda, indecolose, vergognose, che ci fanno vergognare del nostro, non dico della Juve perché io non mi vergogno mai della Juve, ma dei giocatori e dell'allenatore che abbiamo, e anche della società, perché della maglia di questi colori io non mi vergognerò mai, ma sicuramente i tesserati, che non me ne frega un cazzo, non sono, diciamo, non sono miei parenti, miei amici, quindi posso dire il cazzo che voglio, grazie a Dio, su questi tesserati qua, ok, dato che loro quando possono, ci cagano in testa da anni, quindi da sempre praticamente, quindi, non penso, non so perché quando si dice, ma è un giocatore da Juve, tu devi tifarlo sempre, no, se io voglio dire qualcosa contro quel giocatore là, non mi paga, non mi paga, quindi posso dire il cazzo che voglio, va bene? Ok, anche perché, ripeto, se questo qua vuole sputarmi in faccia, ovviamente metaforicamente parlando, un giorno e se ne andrà da un'altra parte, lo farà senza guardare cosa ho fatto io per lui da tifoso, se ne sbattono le balle, ok, punto. Detto questo, quello che ha detto il signor Massimiliano Allegri è molto grave, molto grave, ok, molto grave, ha detto che col PSG, ok, praticamente andiamo in gita, ha detto, cioè non ha detto andiamo in gita, però ha detto che è inutile girarsi attorno, la partita è importante, fondamentale, col Benfica, non col PSG, non ci giochiamo la colificazione col PSG, praticamente ha fatto capire, cioè noi a Parigi poi magari facciamo anche una buona prestazione, però già dalle dichiarazioni, non me ne frega un cazzo poi, dalle dichiarazioni tu sei un... Io non so cosa, tu non puoi dire, tu puoi anche pensarlo, io non sto dicendo che non lo puoi pensare, anche se un attore secondo me dovrebbe sempre pensare di andare in campo e vincere contro tutti, poi, se non vinci fai i complimenti all'avversario e basta, e dice che sono stati più forti. Ma tu, davanti alle telecamere, ed è l'ennesima volta che lo fa, non puoi prima sparare merda su Miletti, poi dire altre cose, adesso non mi ricordo, però ha detto delle cose allucinanti nei post partita, veramente, che lasciamo stare. Poi sempre sto discorso, non prendiamo gole adesso, invece oggi, ha detto abbiamo fatto una buona partita dove? Dove l'abbiamo fatta la buona partita? I ragazzi hanno giocato bene, dove abbiamo giocato bene? Poi andremo anche a vedere, dove abbiamo giocato bene, dove stracazzo abbiamo giocato bene? Ma sta dichiarazione qua è proprio la ciliegina sulla torta, di una schifezza, io ripeto, nulla personalmente con Allegri, con i tesserati, io parlo sempre a livello calcistico, di quello che vedo in campo, di quello che dicono sempre inerenti al campo, le cose inerenti al campo, punto, fine. Ok? Dell'extracampo, frega fino a un certo punto. Però quello che ha detto nel post partita contro Fiorentina è una cosa grave, grave, che se fosse una grande società europea, lo prenderebbe e lo cazzerebbe via, ma siccome noi purtroppo non siamo una grande società europea, non siamo una grande tifuseria europea, ci meritiamo allenatori come Allegri, perché non è un grande allenatore, punto, non è un grande allenatore. Fine. Che poi, ieri, ripeto, McKennie ha giocato di merda, ok? Però, non solo per lui vale quest'attenuante, però ha cambiato e cambia mille modi di giocare e mille interpretazioni durante la partita. Questo non significa adattarsi, questo significa squilibrare ancora di più la testa dei giocatori. Come cazzo fa? Quando si dice, sbagliano anche i più tecnici. Sì, ma grazie al cazzo hanno una confusione tattica che è dettata dalla confusione che ha l'allenatore in campo. A un certo punto, io per fare, riguardami un po' la partita, l'ispezione della partita e fare un po' un'analisi tattica. Cioè, non ho mai avuto così tante difficoltà come oggi. Ragazzi, andiamo, andiamo avanti. Allora, allora, iniziamo con delle cose veloci. L'iniziazione, primo tempo, l'iniziazione, secondo tempo. L'iniziazione, primo tempo, inizialmente McKennie è stato messo sulla sinistra. Locatelli a destra, che in fase in un possesso erano praticamente le due mezze ali, ok? Perché difendevi di fatto con 4-5-1, con Di Maria che si abbassava sull'esterno. Poi, a 34 anni, arriva da un infortunio, ok? Arriva da un infortunio, adesso speriamo che sia uscito veramente per precauzione. Arriva da un infortunio a 34 anni e continui a fargli fare tutta fascia, tutto campo a 34 anni. Va bene, poi non domandiamoci perché ci sono gli infortuni e non parliamo di sfiga. Grazie. Detto questo, detto questo, poi li ha invertiti, ha messo McKennie a destra, Locatelli a sinistra, in fase di un possesso, sempre comunque diventavano un mezze ali. In fase di possesso e soprattutto iniziazione, Locatelli probabilmente nel primo tempo non aveva capito benissimo cosa doveva fare. A volte l'ha fatto, a volte è andato a appoggiarsi ad aiutare Paredes in fase di costruzione. Ma molte volte no, nel secondo tempo questa cosa l'ha fatta di più, infatti ha aiutato di più Paredes. Ma, quello che vi dicevo, tu puoi mettere anche Paredes davanti alla difesa, ma se non hai movimenti senza palla, se non lavori sugli schemi, se non lavori sugli meccanismi, anche lui andrà in difficoltà. E lui è andato in difficoltà dal ventesimo del primo tempo in poi. Perché la cosa positiva che ha fatto contro Fiorentina è l'incontrismo. L'ho visto pressare alto, l'ho visto... A volte ha esagerato anche con i tackle, a volte ha esagerato con la sua tecnica che non è eccelsa. Ragazzi, quando si dice Paredes, Paredes sicuramente darà un qualcosina in più. Salvo infortuni. Ma non è il salvatore della patria a centrocampo. Non è il salvatore come non lo era Bio, l'unico che dovrebbe esserlo. E poi va con un grandissimo punto di domanda, però. E quindi Paredes ha fatto sto lavoro qua, di interdizione, di incontrismo. Però poi basta, cioè, si è limitato a quello, ok? E ho avuto difficoltà nel costruire le azioni, nel costruire il gioco. Perché se non ci sono movimenti senza palla, ha delle difficoltà anche... Avrebbe delle difficoltà anche Pirlo. Cioè, il grande Pirlo, il miglior Pirlo, avrebbe delle difficoltà in questa Juventus. C'è poco a fare. Quindi, poi, quello che a me ha dato fastidio un paio di volte nel secondo tempo, soprattutto, scatta il giocatore e Locatelli non lo serve. Cioè, questa è una roba che a me ha dato un fastidio che non avete idea. Perché là non è un discorso di solo meccanismi. Perché il meccanismo, non perché l'idea è tallegri, perché il giocatore attacca a profondità perché bisogna vincere. E lì è il giocatore che è senza personalità. Che è un conto, quando mi dite Vlaovic ce l'ha, sì, l'avete visto la Fiorentina, Locatelli l'avete visto il Sassuolo. Ma la personalità che hanno in queste squadre non è la stessa che devi avere alla Juventus, che è totalmente diversa. Lì, fai un lancio di 70 metri, non sbagli, se ne sbattono le balle. Qua, fai una verticalizzazione di 30-40 metri, ne fai 2, ne sbagli 3, ne sbagli 4, inizia a non partire il cazzo. E lì significa avere personalità. Sapere delle proprie doti, avere fiducia delle proprie doti e sfruttarle anche in una grande squadra. Locatelli per me non è che è sbagliato il ruolo. Perché se non lo mette Mezzala pura, c'è un motivo, ragazzi. Non lo vede come Mezzala, c'è poco a fare. E neanche io lo vedo come Mezzala. Lui ha dato a giocare in un centrocampo a 2, come sta facendo di fatto, anche se in maniera strana, in questo periodo qua. Ma Locatelli semplicemente non è un giocatore da grande squadra. Non può giocare titolare nella Juventus, in una squadra che dovrebbe puntare a vincere tutto anche a livello internazionale. Non può. Poi dite, vabbè, ma il campionato, l'importante vince il campionato in questo momento qua. Sì, vabbè, ma io faccio un discorso molto più ampio. Molto più ampio. E non è solo un discorso di soldi. È un discorso che se i soldi, quei pochi soldi che hai, li butti nel cesso, tra ingazzi e cartellini, è venuto a poi girarsi in Premier e dire, vabbè, guarda quanto cazzo spendono là. E se quei pochi soldi... Noi abbiamo... C'è stato il periodo che abbiamo speso tanto e li abbiamo spesi di merda i soldi. Quindi... Non è il discorso dei soldi. È il discorso della competenza. È il discorso anche della competenza sulla panchina di chi sceglie. Perché da due anni a questa parte è Allegri che comunque sceglie noi giocatori da prendere. Bene. Comunque. Questo è poi su McKennie che ha giocato male. Però ha fatto dei movimenti nel primo tempo buoni. Un movimento soprattutto, mi ricordo, che di Maria... C'è McKennie che scatta, attacca l'area di rigore che sarebbe da solo se fosse stato servito a raso terra, diciamo. Invece di Maria sceglie il cross a Milik sbagliato poi tra l'altro. Quindi anche di Maria qualcosina sbagliato nel primo tempo. E lì sarebbe andato davanti al portiere. Io non ho messo il gol sbagliato da McKennie perché comunque davanti agli occhi di tutti ha sbagliato lui. Quindi è inutile girarsi attorno. Che poi ragazzi, se voi guardate anche nell'azione del gol che abbiamo fatto, siamo arrivati con un tocco in più. Perché c'era già Quadrado libero. Invece siamo andati prima per via centrali, se non sbaglio. Adesso non mi ricordo da chi. E poi è stato allargato il gioco per Quadrado che l'ha messo in mezzo. E poi Costit ha tirato, ha svilugolato, è arrivato a Milik e ha fatto gol. Ma anche là un tocco in più, un passaggio in più. Quando Quadrado era già libero e là uno di personalità apre il gioco. E la passa a Quadrado. Adesso non mi ricordo chi fosse. Non so se era di Maria, non credo. Anche perché di Maria si può dire tutto che non ha personalità. Però anche là, cazzo, sempre un tempo in più perdiamo. Cioè un tempo... Ci mettiamo sempre un tempo in più. Ecco, questo è. Poi, su McKennie, comunque, anche lui ha capito dopo che posizione doveva fare. E siccome non è una posizione da McKennie quella. Perché io credo che noi i giocatori che abbiamo sono... Per questo poi si sente la mancanza di Rabiot. Perché se tu impronti la partita su... L'aspettiamo e facciamo i contropiedi. Ovviamente Rabiot è l'unico ciocampista che strappa. Che recupera e strappa. McKennie non ha queste caratteristiche. Può recuperarti il pallone, come lo stesso Locatelli. Ma Locatelli, ad esempio, ha più una caratteristica... E poi non si sa quale sia veramente. Però quella dovrebbe essere quella di verticalizzare di più. Un pochino di più. E McKennie, invece, è quella di inserirsi di più. In una squadra che domina, siccome McKennie potrebbe fare molto bene. A livello sia di intensità, di recupero palle e anche di inserimenti. È normale che non puoi chiedere quel tipo di compito là. Perché poi è andato a, diciamo, lavorare anche lui nella tre quarti. Un po' come Famiglietti. Quando gioca lui. Però con caratteristiche diverse. E neanche Miletti, siccome può fare quel tipo di lavoro lì. Anche se l'ha fatto bene. Praticamente giocavi con Locatelli e Paredes davanti a difesa. E McKennie che girava, appunto, dietro a Vlaovic. Con Kostic. E di Maria ai lati. Però, alla fine... Non è quel giocatore che ti fa del raccordo tra centrocampo attacco. C'è poco a fare. Io oggi ho visto anche... Il derby. Brozovic ha fatto gol. Vedete. Non è... Quando si dice Locatelli da mezz'alla farebbe gol. È una cazzata questa. Perché ci sono dei centrocampisti. Anche difensivi. Ok. Che giocano davanti a difesa. Che fanno comunque i loro 5-6 gol stagionali. Perché lì è l'idea di... A parte Simoninzaghi che a me non piace. Però... Lì è proprio la predisposizione che ha la squadra. Ok. Che ha la squadra di attaccare. Almeno nei contropiedi. Perché poi abbiamo fatto una transizione positiva. Che... Vedi. Recupri palla nel primo tempo. Na merda. Cioè proprio... Nessuno si muoveva. Eh... Abbiamo attaccato in tre. Con Locatelli che corricchiava per... Eh... Verso la metà campo avversaria. Queste sono transizioni positive da fare. L'unica buona è stata nel secondo tempo. Che comunque anche lì. Locatelli fa un passaggio lento per Meccanica. E' costretto a tornare indietro. Invece che passare subito per Milik. Davanti. Verticalizzare. Che l'avrebbe mandato in porta. Perché arriva l'avversario. E lo pressa. Perché il passaggio è troppo lento. E lo capisce. Anche nelle cose buone. Comunque sbagliamo. Cioè capite. Poi. Sulla... Sulla azione del gol preso. Lì l'errore non è tanto di Di Maria. L'errore è nel concetto. Cioè Di Maria lì non deve esserci. Lì deve esserci uno tra Paredes e Locatelli per me. Dato che Meccanica è bravo nell'inserirsi. Lo lasci là. Ma uno tra Locatelli e Paredes per me ci deve essere. Che copra. Che sicuramente sanno fare di più quel lavoro rispetto a Di Maria. Che si fa saltare. Perché in attacco è un'altra storia. Storia no? Quando sei attaccante sai che molte volte se ti fai saltare e ribalzo la cosa che ti può capitare è che non fai gol. Ecco. Però per il resto non è che lo fai prendere. Lì ripartono. Quadrado. Ma questo non è solo quadrado. Quadrado attenzione è un problema nostro che abbiamo da anni da una mentalità messa dal signor Massimiliano Allegri. Nel rinculare. Ok? Nel rinculare che poi un gol del genere da angolo tuo non lo prendi mai. I allenatori si incazzano doppiamente. Ma il fatto che nella transizione negativa in sto caso Quadrado invece che alzarsi e mettere in fuorigioco l'avversario arretra e lo tiene in gioco. Arretra per cosa? Che è distante anni luce. Che non lo avresti preso comunque. Stai davanti. Guarda. E lì è l'ignoranza perché non guarda neanche dov'è l'avversario o dove sono i compagni. Guarda solo il pallone. L'avversario che lo sta lanciando. E se stesso. Basta. Questo è. Lì è un errore di concetto con Di Maria che non deve essere lì. E un errore individuale siccome è che è di Quadrado. Al di là del collettivo perché quando prendi un gol del genere è colpa sempre di tutti. Un angolo battuto. Vabbè ci può stare la rispinta del portiere lì. Però non puoi prendere un gol del genere che poi se voi guardate. Nessuno ripiega. Nessuno. Di Maria sbaglia. Ma nessuno corre in maniera forzennata per recuperare. Squadra spaccata in due. Squadra spaccata in due. Poi ragazzi. Noi in centrocampo comunque ovviamente schierati col 4-5-1. Ok. In linea. A parte il centrocampista che poi magari avanza per pressare timidamente l'avversario che in quel momento ha il pallone. A retra. Poi avanza un altro. Poi a retra l'altro. Dipende da dove sta il pallone. Questo per me stanga ancora di più i giocatori fisicamente. Ok. Non solo mentalmente ma anche fisicamente. E non ti porta nessun vantaggio. Questo è. O fa il pressing di squadra alto ultra offensivo offensivo. Porca puttana li vai a prendere cazzo. Che ho visto la Fiorentina che correva fino al novantesimo. Inter e Milan che cazzo. Milanite che sono veramente dannati l'anima fino all'ultimo. Correvano. Combattevano e quant'altro. Adesso devo sentirmi dire che noi non possiamo giocare con una certa intensità per 90 minuti. Ma andate a fanculo andate. Io non dico di 90 minuti. Però quando non c'hai quell'intensità il palleggio lo devi avere te. Prima cosa. E non puoi durare 45 minuti, un'ora. Come le squadre di Conte. Quando manca l'intensità non hai idee. Perché le squadre di Conte per questo mio Conte non lo voglio. Perché manca l'intensità e non ha altro. E non voglio arrivare a tal punto. Che siamo già arrivati poi. Perché le idee allegri zero. Cioè questo è. Vabbè. E poi. Dulcis in fondo ragazzi. Abbiamo finito la partita con il 5-3-2. No. Il 5-3-2. Allora. Allegri. Dice che a Parigi praticamente andiamo per perdere. Poi magari non arriva una sconfitta. Però il concetto è quello. Non ci dobbiamo giocare la partita in Parigi. Non è quella che conta. Ma conta contro Benfica. Che ripeto. Puoi pensarlo anche se sei allenatore. Non dovresti. Però non devi dirlo in pubblico. E poi giochi per il pareggio. Contro il Fiorentina. Senza fare un cazzo. A me non preoccupa i gol che prendo. Ancora con questa mentalità del. Non abbiamo rischiato nulla. Abbiamo rischiato poco. Il cazzo. Siamo episodici. Siamo. Una squadra episodica. Che si incazza come Kenny. Perché dici che hai perso 2-0. Hai perso perché non hai. Cioè hai parigiato perché non hai. Fatto il 2-0 come Kenny. Ti basi su una giocata. E quando tu ti basi solo su una giocata. Solo su una palla da gol. Significa che è grave la cosa. È molto grave. Se sei una grande squadra. Devi crearne. A bizzeffe di palla e gol. È la Fiorentina che deve preoccuparsi dei tuoi attacchi. Non viceversa. E questa roba succedeva. Anche quando noi vincevamo gli Scudetti. Ve lo ripeto. Ve lo ripeto. È un attore che punta il pareggio a Firenze. Firenze. Prima di dire quella frase là. Tra l'altro su Parigi. E questo per voi. Significa vincere l'unica cosa che conta. Difendetelo anche qua. Dato che me lo difendete in Europa. Difendetelo anche qua. Anche qua dovete difendermelo. Io vi ripeto. Guardando Milan e Inter. Per me quest'anno. Il campionato lo vincerà. Non chi farà. Ovviamente tra le prime parlo. Non chi prenderà meno gol. Ma chi farà più gol. Secondo me. Perché le difese fanno tutte. Acqua. Da tutte le parti. Secondo me. Ma saranno gli attacchi a fare la differenza. Secondo me quest'anno. Oltre che centrocampi come se. Ma soprattutto gli attacchi. La fase offensiva. Diciamo. Non gli attacchi. La fase offensiva. Questo è il quanto ragazzi. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. È stato difficile. Fare un'analisi tante case. Sta partita. Di merda. E... Boh. Ditemi cosa ne pensate. È tosta. Tosta. Adesso pensiamo a Parigi va. Pensiamo a Parigi. Io come tifoso so che il Parigi, il Paris Saint Germain è più forte di noi. Ma io come tifoso devo andare sempre e devo pensare sempre che dobbiamo vincere. Soprattutto in Champions League. Dobbiamo andare in ogni paese, in ogni città, contro ogni squadra per vincere. Poi non ci riesci. È un'altra storia. Analizziamo poi. Ma tu devi avere questa mentalità qua. Perché anche quando, soprattutto quando le cose vanno male, quando non hai la squadra più forte d'Europa. Pensando così come hanno fatto altre squadre. Cresci di mentalità e poi arrivi con la squadra più forte d'Europa. O comunque con una delle squadre che possono giocarsela per la Champions. E poi vinci. Perché hai questa mentalità qua del non dire, vabbè, erano più forti di noi, ci sta. Questo. La mentalità di noi tifosi, di voi tifosi, deve cambiare. Sennò in Europa, ripeto, perdiamo. E non vinciamo un cazzo da 26 anni in Champions League. Per colpa di tifosi come voi. Che giustificate sempre tutto con Emma episodica, la Champions. Se episodica perché non la vinciamo, dato che Allegri si basa sugli episodi, porca troia. Dai, su. Gli episodi vanno sempre a favore di chi si ricerca, ricordatevi. Detto questo, soprattutto ci sono parecchi episodi durante una competizione. Cioè, anche questo bisogna dirlo. Infatti, i campionati li abbiamo vinti perché li abbiamo meritati. Sfruttando gli episodi. Però, gli episodi in Italia ti vanno a favore. In Europa, ragionando come ragioni in Italia, no. E non è un caso. E non è solo un discorso, ripeto, di soldi spesi e i giocatori più forti. Un discorso anche di allenatori. Fine. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere la vostra. Vi auguro buona continuazione. Sempre e comunque fino alla fine Forza Juventus. E vediamo come andrà Parigi. Dai, ciao a tutti.